buongiorno e benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo vlog allora ci vedete in macchina con manuel perché oggi è il 26 il giorno del primo esame questa volta ce l'ha solo lui perché matematica è rimasto diciamo insufficiente solo lui e quindi adesso lo sto portando giù a fare questo esame poi io pia e giara dobbiamo fare qualche diretto per finire di prendere le cose per la scuola quelle super indispensabili per iniziare e e poi andiamo a prendere poi a prenderli la colazione e boh e quindi ci riaggiorniamo dopo nino non è nino ragazzi freddissimo freddissimo siamo venuti al bennett per andare al bar a fare la colazione stiamo aspettando perché ancora è chiuso e boh comunque giada si lamenta che ha freddo poi si è messa questa maglia che ha i buchi quindi non serve a nulla tiene un sacco di caldo poi freddo non fa freddo si sta benissimo ragazzi siamo arrivati che erano le 8 e un quarto no è 06 è 06 e adesso sono le 8 e un quarto è arrivato un tavolino e apriamo le 8 e 30 e quindi aspettiamo qui ma no sono a casa andavano in piscina ma che buona bicicletta non è vero si è scritta intatta guarda che bello quel vestito max adesso che è in fissa con i vestiti si vede tutti i vestiti ma mamma cosa 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 possiamo andare si ma possiamo andare quello lì sembra tipo da sirena sì ma metti lì dove li prendi possiamo andiamo andiamo ma cosa ci devi mettere lì dentro prendilo per metterci i tuoi ma c'è lì è uno che ti piace davvero ok tanto io sono un attimo qui dalle scarpe con Pia ah però ho sbagliato stradina mamma io non bisogna prendere questi tivalli non ti puoi mettere gli stivalli allora siamo venuti da Wawa per prendere ragazzi 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 guardate cosa mi ha comprato la mamma guardavo che mi ha risposto Sara ma di Manuel ancora non si hanno notizie adesso andiamo fino da Paniate che è un negozio che vende tutta roba per bambini per cercare le ciabatte a Pia e delle scarpine sempre da ginnastica ci sono ancora i saldi vediamo un attimino quello che troviamo e boh basta quindi questo intanto aspetto che mi rispondano la manina Giana siamo arrivati questo palazzo qui ci abitavo io con mia mamma tanto tempo fa molto molto tempo fa e adesso stiamo andando appunto da Paniate così vediamo se troviamo le ciabattine per Pia e un paio di scarpe perché vuoi fare una piccola scivolatina? no non puoi fare nessuna scivolatina lì ce la puoi fare solo se lo compri noi lo compriamo no quindi andiamo in queste cose c'è pure il campanello guarda in quella si questa 300 euro quella casa con il campanello che belle piscine non direi non direi allora ciabatte trovate e prese adesso siamo fino all'idla ma prima vi racconto questa cosa quando siamo andati a recuperare Manuel praticamente no praticamente si è avvicinata una signora chiedendo se andavo su per la salita e se l'accompagnavamo fino su perché aveva le borse della spesa perché oggi è mercato quindi aveva le borse con la roba a capito del mercato pesanti le è venuto mal di schiena non ce la facevano andare fino su con le borse quindi di fronte a questa cosa le ho detto di sì cosa dovevo fare in realtà un po' citubante perché come vi ho detto non mi fido molto delle persone e non si sa mai chi si cela dietro alle persone che ci avvicinano però cosa dovevo fare era una persona anziana quindi l'abbiamo caricata in macchina e l'abbiamo portata addirittura voleva che le portassi su solo le borse ma io le ho detto no di venire su anche lei e l'abbiamo portata praticamente fin davanti proprio al portone e poi c'era la nipote che l'ha aiutata che addirittura le ha detto ma perché non mi hai chiamato e però vabbè sono stata contenta di aver aiutato questa persona adesso siamo fino all'idl perché voglio guardare se ci sono che ogni tanto le mettono delle scarpe per pia perché da paniate i prezzi per le scarpe erano troppo troppo alti anche perché hanno solamente primigi geox queste scarpe qui che sicuramente sono buone ma per pia che tra praticamente sei mesi non le andranno più mi sembrano veramente troppi soldi troppi e quindi adesso andiamo a vedere a l'idl se magari ci sono delle scarpine e vediamo un po' andiamo dai basta mettila giù vabbè matematica è sul forse scienze naturali c'è scienze naturali anche se non ci metto che se non ci metto questo weekend non se ti ci metti ti ci devi ma vabbè io ci metto questo weekend e ci siamo cioè ed è un sì allora siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere quello che ho preso dai cinesi e all'idle tutto quello che non riguarda la scuola dunque per Sabrina siccome lunedì sarà il suo compleanno abbiamo preso questo cerchietto la mettere in testa con scritto happy birthday due candeline a forma di numero uno perché fa undici anni e questi cuoricini a candeline da mettere sopra la torta che ancora non ho deciso appunto che si accendono poi ho preso queste due adattatori perché mi serviranno per il ferro per stirare questo quadernetto azzurro fatto così a quadretti l'ho preso perché il block notice l'ho quasi praticamente finito e così almeno lo userò per scriverci la spesa mi piacerebbe scriverla ordinata ogni tanto almeno e tipo comunque dei quadratini in modo che rimanga anche pulita andando poi a fare la crocetta sul quadratino così capisco che quello l'ho già preso senza tirare righe o stracciare troppo e avere un riferimento scrivendo anche quanto speso per quella spesa lì poi sotto in fondo e avere un riferimento nel tempo per vedere un attimino anche magari comprare le stesse cose in diversi supermercati e vedere quanto cambiano magari poi alla fine il totale considerato che alcune cose magari in certi discount non si trovano e poi mi hanno preso queste tempere per Gabriele che gli servono per la scuola ma non per il nuovo anno perché come compiti delle vacanze di arte gli ha dato da fare una tavola dei colori e quindi gli ho preso le tempere poi invece al Lidl ho preso queste quattro perché Giada Manuel e Pia si sono presi Pia una pizzetta Manuel un rustico con ricotta e spinaci e Giada un panzerotto e allora per Sabrina e Max che erano a casa anche Gabriele ma Gabriele tanto non le può mangiare ho preso i donut zuccherati e basta questo è tutto quello che abbiamo preso e adesso sistemo e poi iniziamo a preparare per il pranzo perché poi oggi pomeriggio ho un po' di cose da fare che qualcuna la farà con voi qualcuna invece non la vedrete adesso ma la vedrete più avanti lavastoviglie fatta partire perché ieri sera ero stanca avevo mal di schiena quindi non l'ho fatto e adesso mi metto ad editare il video che deve uscire tra due ore a 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 Grazie a tutti. Allora, come potete vedere, c'è gente che urla, comunque qui ho messo dentro le medicine, mi ha aiutato Sabrina, abbiamo buttato via quelle scadute, abbiamo levato quelle finite e abbiamo rimesso dentro le medicine. Qua invece c'è il mobiletto con lo specchio, qui dentro per adesso abbiamo messo sopra i profumi e sotto i cotton fioc e qui non sappiamo ancora cosa metterci. E da questa parte invece abbiamo messo i dentifrici, li devo spostare qui e qua tutti gli spazzolini e i dentifrici per Pia e Giada che così almeno sono ancora più in basso e ci arrivano meglio. E lì dietro invece vedete sul mobile, li asciugamani perché per adesso non so dove altro metterli. Quindi qui ci sono io e niente, adesso sposto un attimo i dentifrici, quindi rimangono due ripiani da decidere cosa metterci, però come vedete è in buonissimo stato. Gli specchi sono in te integri, queste luci non le usiamo perché abbiamo la luce grande e perciò secondo me non era assolutamente sensato buttarlo via, ma l'abbiamo tenuto e l'abbiamo messo qui. Che così almeno abbiamo lo specchio nel bagno. E basta. Adesso invece dobbiamo andare a mettere a posto la cassettiera di Giada e poi andrò giù a registrare un video che però poi vedrete voi tra un po' di tempo. Ci vediamo. Mi sono dimenticata di farvi vedere che abbiamo pulito anche bene il lavandino ovviamente e lì ci deve rimanere solamente il portasapone. Secondo voi quanto durerà così questo lavandino? 0,0 secondi. Comunque qui adesso poi andrò a pulire con quello a fare per le fughe, vediamo se riusciamo a farlo venire un po' più bianco e adesso devo andare giù a registrare il video. La cassettiera è a posto, quindi andiamo. Eccoci, allora vi faccio dire da loro dove stiamo andando? Al cinema! Allora, praticamente nel paese dove abitiamo hanno fatto un cinema all'aperto e stasera, come si dice? C'è, diciamo, c'è questo cinema. Come si dice? Trasmettono Ratatouille. Siccome è bello, è proprio un bel cartoncino, ho deciso di portarle anche perché comunque è gratis e quindi è una bella cosa anche per stare con i loro amici che abitano qui nel paese. E quindi andiamo al cinema. Stiamo con la macchina di Maurizio perché oggi ho combinato la mia... Sì, vai. In pratica, quando stavano tornando a casa perché io non sono andata, hanno tirato giù i finestrini. Poi si sono dimenticati di tirarli giù. La mamma, quando ha tirato, si è rimessa in macchina per farli tirare sui finestrini, si è dimenticata di togliere la chiave. Quindi la batteria è stata accesa tutto questo tempo. Quindi adesso la batteria è morta, diciamo. Quindi domani dobbiamo risolvere questo problema. Chi è? Io sono stata. Oh, cazzo. Au. Eh, non sono abituata a questa macchina, dovete darmi tre. Mamma, per fortuna questa non gratta con la terza. Eh, infatti bu. Comunque è questo, quindi stiamo andando lì, vi farò vedere qualcosa così, come sarà il posto, come è organizzato, ma non più di tanto perché altrimenti mi bloccano il video per il copyright. Comunque, niente, quindi stiamo andando lì. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti